L'astrolife è il prodotto da somministrare a tutti i cavalli che hanno un problema di gastriti o incire plastiche. Grazie ai suoi ingredienti, tutti di origine vegetale e naturale, e al suo aspetto in microgrammi, risulta molto appetibile anche per quei cavalli che a causa di questi problemi perdono l'appetito e mangiano malvoli di piedi. Il litotamio è un'alga marina calcificata ricca di oligoelementi in grado di assicurare un'adeguata remineralizzazione, di restabilire l'equilibrio acido-basico dell'organismo e riequilibrare l'acidità dei succhi gastrici. Il cumino ha proprietà digestive antisettiche, antispasmodiche, è utile per combattere i disturbi digestivi, il meteorismo, le coliche, la flautolenza e favorisce l'assimilazione del cibo regolando il flusso gastrointestinale. Il fucus vesiculus è un'alga particolarmente ricca di alginati che hanno la proprietà di formare gel viscosi che proteggono la mucosa dello stomaco dalle secrezioni gastriche. La trigonella contiene proteine di alto valore biologico, vitamine e oligoelementi che stimolano le funzioni metaboliche con un effetto ricostituente. Tutti gli ingredienti agiscono in sinergia per alleviare i dolori crampi gastrici nell'attenuare il gonfiore addominale grazie alle proprietà lenitive antinfiammatorie in grado di proteggere le mucose gastriche ed intestinali accelerando i processi di cicatrizzazione. La posologia corretta per l'utilizzo di Gastrolife è due somministrazioni giornaliere di 60 grammi per almeno 30 giorni. Dopodiché proseguirete con la somministrazione del prodotto Gastrolife riducendolo a una volta al giorno 60 grammi fino alla cessazione completa dei sintomi indicatori di un problema gastrico. Grazie a tutti.